Sì, oggi andremo al cinema stasera per vedere il film in molti santi del New Jersey. Certamente, non vedo l'ora di andare. Cosa stiamo aspettando da questo film? Sì, ci divertiremo tanto, ci comporteremo molto bene. Siamo tutti contenti. Andiamo. Ciao Alan Tyler. Ciao anche voi amici. L'attore ha sparato i ladri e tutti sono morti. Oddio mio, tu hai fatto uccidere i ladri. Certo, abbiamo ucciso i ladri. Amici, state a vedere come è successo questa sparatoria. Psss. Psss. Oh. Psss. Oh. Mmm. Psss. Oh. Psss. Oh. Mmm. Psss. Oh. Psss. Oh. Psss. 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 Oh. Psss. 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 Era un bel film, mi dispiace che si sono stati immorti. Sì, è piaciuto vedere il film. Il Monti Santi del New Jersey. Sì, no time to die. Mahmoud, soldi. Sì, no time to die. BAM! 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 BOOM! 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 BANG! GO! BOOM! GO! BOOM! BOOM! BANG! BOOM! 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 Sì... Grazie a tutti